eric le rubo solo due minuti si scusi stavo cercando di rimettere ho trovato questa bottiglia di soda nella sala relax al lato del frigo avranno dimenticato di metterla in frigo adesso ci tocca berla calda no non è questo il problema ah no no il problema è che non contiene soda ma del detergente per macchinari ah sì e ha subito pensato questa deve essere opera di eric così senza alcuna prova un po' diffidente no non è stato lei sì il tappo del flacone del detergente si è rotto così ho pensato di metterlo in una bottiglia che si potesse chiudere per sicurezza allora perché secondo lei queste due bottiglie sono differenti vuole una risposta sarebbe lo scopo della domanda sì per evitare pericoli esatto se si riconfeziona un prodotto pericoloso in una bottiglia che non riporta l'indicazione del pericolo sì ma bisogna essere stupidi nel bere un detergente eh d'accordo passiamo all'aspetto igienico ma insomma non solo ha riconfezionato un prodotto ma anche lasciato in giro la bottiglia nell'area ristoro l'intenzione era buona mi ascolti bene io sono la responsabile della sicurezza sono qui per evitare che si verifichino incidenti stupidi quindi nessun riconfezionamento spontaneo e nessuna combustione spontanea ma questo è più raro e soprattutto in caso di problemi con un flacone bisogna riconfezionare il prodotto in un altro flacone adatto allo scopo perché la plastica delle bottiglie per alimenti non è fatta per resistere alle sostanze chimiche ecco perché c'è sempre una bottiglia vuota in magazzino esatto ok ho capito nessun riconfezionamento spontaneo in una bottiglia di soda che poi se qualcuno si beve del detergente si dà una bella ripulita dall'interno no ok ho capito nessun riconfezionamento spontaneo e a quanto pare niente umorismo spontaneo quello va bene l'umorismo divertente è sempre gradito no no comunque è tutto chiaro è meglio prevenire che curare beh complimenti eric vedo che quando vuole invece per quanto riguarda l'incidente del 17 a questo proposito lasci che le spieghi c'entra di nuovo lei no cioè sì in realtà solo per metà cosa intende dire solo per metà? chi altro c'era? no ero da solo no aspetti aspetti è andata così safety is right now